Apriamo questa prima edizione con il messaggio scritto dal Di Castero per i laici, la famiglia e la vita che interviene sull'epidemia da coronavirus. Il Di Castero vuole dare la propria forza e coraggio a tutti coloro che si sentono minacciati dall'epidemia e soprattutto dice loro di non sentirsi soli. Il Di Castero ringrazia anche l'operato dei medici, mentre in Vaticano dopo il primo caso di positività da Covid-19 si potenziano non soltanto le misure di sicurezza ma anche i servizi streaming per gli appuntamenti papali. Il servizio. La vita dell'uomo ha un valore grandissimo agli occhi di Dio. Se in alcune circostanze qualcosa attenta alla salute e alla vita stessa di molti uomini e forse anche la nostra, non dobbiamo sentirci soli di fronte a questo nemico. E' il messaggio del Di Castero preposto dal Santo Padre alla cura pastorale dei laici, della famiglia e della vita che aggiunge Siamo tutti chiamati ad affrontare questa emergenza sanitaria internazionale con serietà, serenità e coraggio rendendoci disponibili anche ad alcuni sacrifici nel nostro stile quotidiano di vita per il bene comune. Il bene nostro è quello di tutti. Ognuno è chiamato a fare la propria parte. Anche la Chiesa vuole essere accanto a ciascun ammalato di Covid-19, alla sua famiglia e ai suoi amici, al personale sanitario e di pubblica assistenza che si prende cura della sua persona e agli studiosi che cercano un rimedio per questa patologia. Il Di Castero, preposto dal Santo Padre, desidera manifestare in questo momento di difficoltà a quanti sono stati colpiti dalla Covid-19 o si sentono minacciati da questa infezione virale la vicinanza, l'affetto e la preghiera. In queste circostanze difficili, la comunione d'amore tra i coniugi e con loro i genitori e figli è una risorsa per l'intera società e per ciascuna persona a rischio di sperimentare la solitudine. La solitudine è male della persona che nel caso del pericolo di contrarre una malattia si aggiunge al male fisico provocato dalla patologia. Il Di Castero si unisce a Papa Francesco che esprime la sua vicinanza ai malati del coronavirus e agli operatori sanitari che li curano come pure alle autorità civili e a tutti coloro che si stanno impegnando per assistere i pazienti e fermare il contagio.